Tagba Buyukustun, una delle artiste più famose di Istanbul, ha preparato una sorpresa indimenticabile per sua madre. Il famoso attore ha deciso di sorprendere sua madre con un veicolo di lusso per dimostrare il suo amore ed esprimere la sua gratitudine. Le nostre notizie contengono i dettagli di questo momento emozionante e le reazioni della madre. L'evento è stato un regalo meraviglioso che Tagba Buyukustun ha comprato a sua madre, che voleva rendere ancora più speciale un giorno così speciale. La famosa attrice aveva pianificato da molto tempo di dimostrare quanto apprezzasse la vita di sua madre e quanto fosse speciale a lei. Tagba Buyukustun ha deciso di coccolare sua madre con una serie di eventi che dureranno tutto il giorno, oltre all'auto di lusso che si comprerà. La prima fase della sorpresa è stata quella di portare sua madre fuori di casa e in un luogo sconosciuto. Tuba Buyukustun prese sua madre dalle sue mani in un veicolo di lusso e la lasciò chiedendosi dove l'avrebbe portata. Il sorriso sul volto di sua madre dimostrava quanto fosse speciale questo acquisto. Durante il viaggio, Tagba Buyukustun ha reso la giornata ancora più colorata facendo regali a sorpresa a sua madre. La famosa attrice ha organizzato una cena speciale in un elegante ristorante e ha invitato un gruppo musicale che ha cantato le canzoni preferite di sua madre. La reazione della madre è stata molto emozionata. Ma il vero punto surreale è stata Tagba Buyukustun, che ha preparato una sorpresa per 10 persone che hanno espresso i loro sentimenti accumulati durante la notte e ha regalato a sua madre un'auto di lusso. L'auto era decorata con un grande fiocco e palloncini colorati. Anche se la sorpresa e la gioia della madre che ha visto il veicolo si sono riflesse nei giornalisti. È stato stabilito che la madre di Tagba Buyukustun non ha potuto trattenere le lacrime durante questo incontro a sorpresa molto speciale. E la madre di Tagba Buyukustun è scoppiata in lacrime e ha tenuto un commosso discorso di ringraziamento per questo gesto di sua figlia. Alla fine della notte, mentre Tagba Buyukustun posava per le telecamere con sua madre, l'espressione di felicità e orgoglio sul viso di sua madre è diventata uno dei ricordi indimenticabili di questo giorno speciale. Questa sorpresa fatta da Tagba Buyukustun a sua madre ha attirato grande attenzione sui social media. Ha ricevuto commenti positivi dai suoi follower. Dei dettagli dell'incidente, dei momenti emozionanti di Tagba Buyukustun e della felicità di sua madre si parlerà a lungo nel mondo delle riviste.